Partendo già dal titolo, il riscatto, che è un po' il ribaltamento dal paradigma entropecentrico che vede l'essere umano non come l'attuazione di un algoritmo, ma come una storia evolutiva, perché nelle parti più basse del nostro corpo non troveremo mai radici, troveremo gambe. Quindi siamo fatti per camminare e milioni di persone che si mettono in cammino alla ricerca della loro terra promessa e allora nutrono la speranza di trovarla, ma purtroppo sono orfani di Mosè e le acque si aprono ma non li fanno passare. E noi attraverso questo spettacolo cerchiamo di dare loro onore, dignità e soprattutto umanità. Perché è diventata così importante la tematica delle migrazioni, dei flussi di persone? Nel momento in cui c'è un asservimento impossibile da spezzare o da allentare dinanzi al pensiero dominante, non ci si pone la domanda come è avvenuto tutto questo. Il riscatto cerca di raccontare la storia dei popoli che non ci ha lasciato in eredità un incontro, ma dei scontri, sopraffazioni, vessazioni, sopprusi, violenze. Ecco, quei pochi popoli che cercano di migliorare la loro condizione di vita sono la conseguenza delle scelte sbagliate che furono fatti a quei tempi e ancora oggi invece di riconoscere i propri errori e cercare di porvi rimedio ci si limita ad additare gli altri come fautori del male che ci hanno colpiti. Io ci tenevo molto a rispolverare l'Africa autentica, quell'Africa che non si legge nei libri con la sua organizzazione sociale, usi, costumi, tradizioni e raccontare anche l'abbraccio mortale che c'è stato tra l'Africa e l'Europa e successivamente la spartizione del continente africano con le frontiere decise da Berlino che hanno spazzato via tutto quello che c'era mentre in Europa i popoli diventavano nazioni in Africa purtroppo sono rimasti agglomerati di etnie che quindi non hanno saputo praticare i metodi democratici imposti dall'Europa perché non sono funzionali alle etnie alla fine la crisi è diventata strutturale.